ragazzi posso finalmente parlare e stiamo qui in una partita in un'altra partita su fortuna gli arena non le faccio quasi mai per questo sogno in vision 2 e non ho praticamente punti ce ne ho pochissimi perchè non faccio mai arena speriamo di arrivare in top 10 top 9 perchè io potevi vedere anche dal mio profilo in singolo vittoria non ce ne ho e poi c'è di tutto il resto sono pochissime su questo account quindi non sono tanto forte speriamo di posizionarci in una top abbastanza alta, cioè proprio bassa poi stai diciamo abbastanza calma credo perché non nemmeno lì 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 è la sua a 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 ovviamente non mi faremo non mi farò vedere tutta la parte in cui tutto e va bene ditemelo prima a ora io un ok sta registrando si che a volte mi si blocca il programma e mi metterò l'audio nelle partite di primo avevo fatto troppo a dire con un mio amico e tutte queste non 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 semmo intendo che va Sì, sì. Ahah, ciao Ahah, ciao